Ciao a tutti i rikutsi qua La live di prima è stata interrotta da un crash del Zoku E niente Non ho fatto niente Poi andiamo un po' con loro Oh no Ok, nulla A che loro non dicono nulla A questo punto Poi andiamo un po' con loro Anima desi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, cazzo, Roberto. Non c'è nulla. Non taggettarmi. Nessuno. Oddio, allora sono... Mercanti? Cattivi? Porca puttana. Sì, ma come cazzo faccio? Cazzo qui è un casino, Cristo... Allora... Niente. Comunque niente nulla. Non c'è 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 nulla. non ce l'ho fatta no non 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 Grazie a tutti 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 Non fanno niente questi Grazie a tutti Quasi Quello che c'è Grazie a tutti Grazie a tutti Che Che dalla Tori si deve buttare dall'azima della Tori, mi pare Vabbè, non più dall'azima Si deve arrivare in basso E' nella strada per farlo Si è un serretto Oh, yes bastava rotolare bastava rotolare ma vaffanculo si trova tanta roba della frenesia qui nelle fogne a vero che qui non sono più fogne aspetta un po' come cavolo si fa questa cosa è uno scarso cosa ok gli scudo delle dita inizio ad avere un sospetto su chi possa trovarsi in fondo a sto posto o comunque è legato a quel personaggio cioè personaggio ma sta roba ok 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 Grazie a tutti. Ivetta? Ok, non pensavo a lei. Menina? Oddio, c'è Kraft qua in fondo. Non pensavo a lei. 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 pensavo a lei. non pensavo a lei. non pensavo a lei. ma pensavo a lei. non 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 pensavo a lei. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Yes Grazie a tutti 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 Ok bella come si arriva come si arriva troppo come si arriva E' qua sopra Ok Non si sia arriva da qua Cazzo Quanti oggetti sto volendo Non si sia arriva da qua 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 Oh Non si sia arriva da qua 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 ah ok non è tagliato dalla prospettiva che lo fa sembrare tagliato quindi questo è davvero l'albero madre torniamo di sopra un po' Questa volta non ci casco Facciamo le cose con calma Non morire Bravo Facciamo le cose con calma Facciamo le cose con calma Facciamo le cose con calma Ok C'era bisogno del cavallo Poi c'era un altro oggetto Questa è troppo un rischio dai Non si può fare 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 Ah non c'era nessun oggetto Avevo visto male io Non si può fare Non si può fare Non si può fare Vediamo se mi dice qualcosa Non si può fare 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 Non, viaggiare Aiii, te... Grazie a tutti. Meglio. Me lo faccio da solo? Fortisax per dare il suo nome. Aspetta un attimo. Vediamo un po' se riesco. Aspetta un attimo. Volevo fare un piccolo esperimento. Aspetta un attimo. Allora tolgo questo. E metto anche questo. E metto. 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 E' una zia di Renala questa? E' una zia di Renala questa? Ok, durati 8 secondi, il balsamo. Proviamo. Ah, come è tutto questo? No, ma che cazzo ho fatto? No, ma che cazzo. 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 Se invece metto anche questo. No, ma che cazzo. 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 E' sperimentato fatto. No, ma che cazzo. Quindi, mi ho detto il mio vecchio setup. Che era? Non ricordo più qual'era. Ah, che è questo? No, ma che cazzo. No, ti faccio a pensare il mio vecchio? Ma che cazzo. No, ma che cazzo. Quella cazzo allora. È questo? ići住 alla finestra. Se lo vedo, mi andiamo a przy fare con Perez. Dagui tutti, grazie. Si, ok. Bis ce n' NFL rimandarte automo Bol costume ha convidaduto. l'arco allora partiamo dalle basi questo 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 anzi no facciamo così non 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 E' questo? Siamo qua su 68 Azione La boschia E' questo Andiamo di fisico Ma è tutto Grazie. Grazie. Oh come on it. Sì. Che canso. A beh, è un sogno. Familiare qua. Grazie. 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 Familiare qua. Grazie. Grazie. E questo è un po' difficile. Grazie. Grazie. Oh, ho scelato. Grazie a tutti. 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 No, no, no. Ma perché? Grazie a tutti. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Oh, è sparito. Tutta roba di... No, 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 no. No, 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 no. Quindi, no, 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 no. Quindi, no, 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 no. ma stavo dimenticando ah inizia Andiamo alla tavola Vediamo cosa mi dicono Niente Porca puttana Ok posso usare anche io il morbo mortale Ma ho cofetto Ok niente Niente sul fatto che mi sono umito alle tre dita Greetings are you here for Andiamo a 5.000 In this ash It reminds me of my Doi sta figlia Vediamo se c'è qualcosa Grazie Ok, niente, menagna, menina è nata per sempre. Allora... Oh, mio povero Un scendio del bale Ok, dai, basta così Nella prossima line si va a fare platforming qua Intanto, ando un po' avanti Qui si sfonda tutto Ma aspettano un po' Eh no, niente C'era za stato qua Che culo Mi sa che comunque mi sono preso qualcosa Cadendo Ah, i semi d'oro Ah Ave Ah 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 Spoiler Adesso Quello era un Dei zi da Eh Sono qua Eh Niente Dai Non interrompiamo qui la live Alla prossima Ciao ciao Alla prossima Alla prossima